Abbiamo definito due nuove aree pedonali interno del centro storico, temporanee in modo sperimentale, che riguardano una è la prima che da Corso dei Michetti, l'ultima parte, da Porta Reale fino a Via Cirillo e la seconda l'area che sta tra Via Comi e Via Veneto, quindi quest'area è interessata molto in questo periodo da attività di ristorazione che nelle ore serali sono pieni di cittadini, vorremmo renderla più vivibile limitando al massimo l'utilizzo delle auto e in questo modo dare maggiore fluidità a queste attività. Saranno temporanei in modo sperimentale, vedremo, monitoreremo la situazione e partiranno dalle ore 18 alle ore 3 della notte, dureranno fino al 31 di agosto e quella di Corso dei Michetti sarà da lunedì alla domenica, mentre quella di Via Comi e Via Vittorio Veneto sarà giovedì, venerdì e sabato sera, quindi siamo nei weekend lunghi.